9 arresti in carcere, 4 ai domiciliari, 2 persone ancora ricercate. Sono questi i numeri dell'operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Agropoli nei comuni di Capaccio Pesto Messalerno. I dettagli sono stati svelati nel corso di una conferenza stampa. Il blitz è scattato ieri mattina all'alba e ha visto coinvolti un centinaio di militari, unità cinofile di Sarno e il settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano. Le ordinanze di custodia cautelare sono state messe dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia verso soggetti ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati, il 31enne Capaccese Giancarlo Rossi, già in cella, è raggiunto da un'ulteriore ordinanza di carcerazione per droga. Con lui, suo padre, il 70enne Umberto Rossi, già ritenuto coinvolto in gruppi di criminalità organizzata. In manette anche Salvatore Maresca, Roberto Maresca, Antonio Buonora, Marco Grimaldi, Gianluigi Strianese e il marocchino Enrique Ayek Salè. Una quattordicesima persona che doveva essere arrestata era deceduta per overdose nelle scorse settimane. Durante l'operazione e le indagini sono stati sequestrati diversi quantitativi di cocaina, hashish e marijuana. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire gravi indizi a carico dei soggetti coinvolti che, stando alle ricostruzioni, gestivano le piazze di spaccio ad Agropoli, Capaccio Pestum, Santa Maria di Castellabate, Castelnuovo Cilento, Liveto Citra, Per di Fumo, Rocca d'Aspide e Vallo della Lucania. La droga arrivava da Napoli, dai quartieri di Secondigliano e Scampia.